di jonathan swift i viaggi di galliver terza parte voce di lorenzo pieri capitolo decimo parte prima elogi degli abitanti di lugnag gli immortali o strudbrugs discussioni e delusioni dell'autore a proposito di codesti esseri straordinari orgogliosi come tutti gli orientali i lugnagiani sono però valenti cortesi ospitali specialmente gli stranieri visti di buon occhio alla corte trovano presto una quantità di amici io ne conobbi molti di alto lignaggio e per mezzo del mio interprete ebbi con essi dilettevoli e proficui colloqui uno di costoro mi domandò una volta se avevo mai veduto uno strudbrug ossia un immortale avendogli risposto negativamente aggiungendo che l'avrei visto volentieri per la curiosità di sapere come un essere umano poteva essere chiamato in tal modo il mio interlocutore mi disse che qualche volta sebbene a lunghissimi intervalli nasceva nel loro paese un bambino con una macchia rossa e rotonda posta proprio sul sopracciglio destro e questo segno era infallibile indizio di immortalità codesta macchia era grande come una nostra monetina d'argento da tre pence poi con gli anni cresceva di larghezza e cambiava di colore a 12 anni diventava verde a 20 azzurra a 40 nera e grande come un ocellino allora non cambiava più codeste nascite erano si rare che in tutto il regno esistevano soltanto 1100 immortali all'incirca dell'uno e dell'altro sesso nella capitale venerano una cinquantina fra i quali una bambinetta di tre anni il fenomeno non era speciale di nessuna famiglia e i figli degli stessi strulbrooks erano mortali né più nemmeno degli altri confesso che tutti questi discorsi mi fecero una piacevolissima impressione e siccome la persona che me li faceva comprendeva bene la lingua balnibarbese mi lasciai andare a frasi forse alquanto esagerate per esprimere la mia ammirazione gridai quasi rapito in estasi o felice popolo i cui figli possono sperare nell'immortalità fortunato paese dove gli esempi dei tempi trascorsi e delle loro prische virtù non si smarriscono per intiero dove i primi uomini vivono ancora e vivranno in eterno per dare insegnamenti di saggezza a tutti i loro discendenti e felicissimi poi fuor d'ogni confronto quegli ottimi strulbrooks che sono liberi dalla maggiore calamità umana e lo spirito dei quali è alleggerito dal perpetuo timore della morte manifestai poi la mia meraviglia di non avere ancora incontrato alcuno di codesti immortali alla corte già che qualora ve ne fossero stati li avrei riconosciuti subito per la gloriosa impronta che dovevano portare in fronte come mai aggiunsi un re tanto savio non sceglie costoro per il ministero e per il suo consiglio privato forse la rigida virtù di codesti vecchioni non andrebbe d'accordo con la corruttela dei cortigiani comunque ne parlerò a sua maestà e gradisca oppure no il mio consiglio accetterò l'offerta di restare in questo paese se non altro per poter trascorrere il resto della mia vita in compagnia degli immortali purché si degnino di tollerare la mia il mio interlocutore che come ho detto capiva benissimo la lingua di balni barbi mi guardava con un sorrisetto che rivelava tutta la sua compassione per la mia ignoranza poi dopo avermi detto che la mia intenzione di restare all'ugnag gli faceva molto piacere mi chiese il permesso di poter riferire al resto della compagnia le mie parole mentre ei traduceva nessuno degli altri presenti diede a conoscere l'impressione che riportavano dal mio discorso soltanto parlarono a lungo fra loro ma io non capì una parola infine il primo interlocutore mi disse molto garbatamente che le mie opportune riflessioni sui privilegi dell'immortalità erano piaciute a tutti i suoi amici ma che essi desideravano sapere che cosa avrei fatto e quale sarebbe stato il programma della mia vita qualora fossi nato strulbrug risposi che il tema si prestava anche troppo all'eloquenza soprattutto per un carattere come il mio che si compiaceva di continuo di fantasticare su quello che avrei fatto qualora fossi stato re condottiero d'eserciti o ministro di stato quanto all'immortalità avevo talora pensato al da farsi nel caso che avessi potuto vivere eternamente e poiché mi veniva domandato avrei fatto volentieri sfoggio della mia fantasia se dunque dissi fossi nato strulbrug non appena avessi compreso il mio privilegio e il divario che passa tra la vita e la morte avrei anzitutto tentato ogni mezzo per diventare ricco e a forza d'economia e di prudenza speravo di potere dopo un duecento anni godere di una discreta agiatezza fin dalla gioventù poi mi sarei dato allo studio nella speranza di diventare il più dotto uomo dell'universo avrei accuratamente preso l'appunto di tutti i grandi fatti avrei osservato con cura il succedersi di tutti i sovrani e dei ministri confrontando nell'opera e facendovi sopra le opportune riflessioni avrei tenuto conto via via di tutti i cambiamenti della moda e della lingua e di quelli dei costumi delle leggi delle convenienze persino dei piaceri così sarei diventato un vero emporio vivente di conoscenze e di saggezza il vero oracolo della nazione sarei giunto ai 60 anni guardandomi bene dal prendere moglie ma vivendo sempre con onesta e decorosa economia mi sarei dilettato ad educare qualche giovanotto inculcandogli un po della mia illuminata e lunga esperienza ma avrei sempre avuto per veri amici e confidenti gli strulbrooks miei illustrissimi confratelli dei quali avrei cercato di conoscere una dozzina per ciascun secolo fino al mio compreso se qualcuno di costoro fosse stato povero gli avrei offerto ospitalità in casa mia e ne avrei voluto avere sempre qualcuno alla mia tavola invitando anche qualche mortale di merito e mi sarei avvezzato facilmente a vedermi rapire questi ultimi dalla morte consolandomi coi loro successori anzi questo spettacolo sarebbe diventato per me piacevolissimo come lo è per un floricultore la vista dei tulipani e delle rose del suo giardino che nascono muoiono e rinascono ancora fra noi altri immortali scambieremmo di continuo tutte le osservazioni fatte nel corso dei secoli e i nostri ricordi ci renderebbero possibile di tenere dietro alla corruzione dell'umanità combattendo la palmo a palmo coi nostri insegnamenti e consigli che aggiunti alla continua efficacia del nostro esempio impedirebbero alla nostra specie di degenerare ogni giorno di più come viene rimproverata di fare da tempo immemorabile a tutto questo bisognerebbe aggiungere il diletto di vedere la rovina delle dinastie le rivoluzioni le trasformazioni delle alte e basse classi le più superbe città cadere in rovina gli oscuri villaggi diventare soggiorno di monarchi i fiumi maestosi cambiarsi in ruscelli l'oceano lasciare una spiaggia per andare a bagnarne un'altra nuove terre a essere scoperte le nazioni più civili diventare barbare e rozze le più barbare trasformarsi alla loro volta in illuminate e civili avremmo infine potuto vedere risolti i problemi più importanti come quello del moto perpetuo e della panacea universale e ogni altra invenzione perfezionata al sommo grado in astronomia avremmo potuto fare le più mirabili scoperte già che saremmo sopravvissuti agli avvenimenti da noi predetti avremmo avuto la conferma dei nostri calcoli avremmo potuto osservare il cammino e la ricomparsa delle comete e tutti i mutamenti nel moto e nell'aspetto del sole della luna e degli astri e così mi dilungai a parlare di tutti i vari argomenti suggeritimi dal naturale desiderio di prolungare all'infinito una vita e una felicità quali possono esistere sotto la luna